Giovani sport e turismo sono i concetti fondamentali al centro della campagna elettorale di Manuela Di Fiore, candidata con Fratelli d'Italia alle regionali del 10 di marzo a sostegno di Marco Marsilio. La sala consigliare del comune di Bussi sul Tirino ha ospitato un incontro pubblico nel corso del quale Di Fiore ha avuto modo di sviscerare i suoi capisaldi programmatici traducendoli in idee concrete da mettere al servizio dei cittadini. Parole chiare riguardo ai giovani, per dare il loro modo di mettere in atto un nuovo protagonismo serve riavvicinarli a una classe politica che ad oggi viene da loro vista come troppo distante. Purtroppo oggi c'è molto scetticismo, i ragazzi sono completamente lontani, quindi per pensare a un futuro nuovo, quindi a ricreare una nuova classe dirigenziale c'è bisogno un attimo di stimolare questi giovani e avvicinarli alla politica sana, quella vera. Sullo sport la declinazione più importante che Di Fiore dà è quella riguardante l'attenzione forte nei confronti della disponibilità di strutture, guardando anche a quella che può essere definita un'alleanza con l'ambito e il mondo scolastico. C'è bisogno comunque di creare strutture sportive che siano adeguate perché oggigiorno purtroppo non tutte le scuole hanno palazzetti o comunque palestre che possono essere adibite alla pratica sportiva e questo è un grande problema perché spesso purtroppo non possono proprio esercitare l'attività fisica che oggi è al primo posto, quindi sport, inclusione, corretti stili di vita. Io punterò tanto a promuovere questo tipo di attività sia attraverso la scuola che attraverso comunque le associazioni sportive che sono la prima fonte di forza di tutte le attività amministrative. E poi il turismo come motore di un territorio, la Val Pescara, che da un lato ha grandi potenzialità ma dall'altro in alcune realtà più piccole si trova a dover fare i conti con il fenomeno dello spopolamento. Io mi sento di rappresentare molto la Val Pescara, quindi i territori, le piccole realtà dell'entroterra. Mi auguro di poter realizzare una vera rete turistica che permetta comunque di avvicinare un po' tutte le piccole realtà ai comuni con pochissimi abitanti che soffrono lo spopolamento, di arricchirli con la frequentazione di turismo attraverso figure professionali preparate, quindi creare dei corsi organizzati alla regione che possano preparare i ragazzi ad accogliere i turisti e proporre offerte turistiche adeguate. Tra i presenti all'incontro di Bussi sul Tirino il candidato presidente Marco Marsilio e il presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roschiani, nonché i rappresentanti istituzionali abruzzesi di Fratelli d'Italia a Roma, Liris Testa e Sigismondi. Quest'ultimo anche coordinatore regionale di Fratelli d'Italia ha messo in luce come i punti forti della candidatura di Manuela Di Fiore siano da un lato la sua pregressa esperienza come amministratrice locale e poi il suo forte radicamento territoriale. Quella di Manuela Di Fiore è una candidatura che a noi ci rende molto contenti che abbia accettato l'invito del coordinamento regionale a scendere in campo perché lei è giovane, è un'amministratrice nel suo comune, una persona che come anche lei ha ricordato ha fatto il radicamento sul territorio dal suo punto di forza e noi vogliamo persone come lei persone che amano la loro terra, che amano l'Abruzzo per continuare a dare quel contributo che soltanto la passione per il territorio può dare, spingersi oltre, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Grazie.